Un brano che parla di un grande re, Brian Boru, l'ultimo re d'Irlanda, che fece una cosa grandissima, riuscì a scontiggere i norvegesi che dal 700 d.C. avevano invaso l'Irlanda e avevano distrutto tutte le terre. Lui unifica, mette insieme tutte le tribù e riescono a creare un grande regno. Boru in gaelico, che è la lingua irlandese doc, diremmo così, significa tributo perché si racconta, siamo tra storia e leggenda, che lui volesse che questi tributi fossero utilizzati per ricostruire luoghi di culto, di cultura e monasteri. Voi sentirete una versione di Ana Fivè, grande artista, dei nostri tempi, con un riarrangiamento di Patrizia Borromeo per la nostra ensambio, il cerchio delle fate. Brian Boru. Grazie. 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 Grazie.